Vecchia formula, o quasi, e nuova location. Per la sua 34esima edizione, il Fan of Film Festival torna agli origini. Sei giornate come prima del Covid, dal 18 al 22 ottobre, ma in una location diversa, il rinnovato Cinema Masetti. È una gioia riprendere questa iniziativa, che da tante soddisfazioni sono arrivati tanti entusiasti, registi, che vogliono partecipare al Festival di Fano. Oltre 2000 ne sono arrivati tantissimi, per cui dobbiamo vederli, non dico tutti, ovviamente no, però una bella rappresentanza. Un festival che personalmente conosco fin dall'adolescenza, un festival che ha accompagnato sia me che tanti altri fanesi e che ha accolto tantissime persone anche da fuori. È un festival che ha dei numeri incredibili, 34 anni, 34 anni in cui si raccontano storie e 2000 film inviati. Questi sono numeri incredibili di cui siamo molto contenti. Stop, dunque, all'unica serata su prenotazione imposta dalla pandemia. Quest'anno si torna a fare sul serio, anche se in orari diversi dal solito. Gli orari, gli orari ovviamente sono un po' ballerini, ma cominceremo comunque martedì prossimo, martedì 18 con il lungometraggio vincitore, alle 21.15. Poi abbiamo parecchi pomeriggi impegnati, dalle 17 alle 19, tutti i cortometraggi in questo caso. Abbiamo una notte animata, una notte animata ovviamente di grande animazione nazionale e internazionale. E questa notte animata comincerà proprio a tarda notte, alle 23, per andare avanti oltre mezzanotte. Per concludere ovviamente il festival, degnamente, domenica mattina alle ore 6 del mattino, sottolineo alle ore 6 del mattino, con un film a sorpresa, e lì chiaramente offriremo, per chi si sveglierà di buon'ora, anche una colazione offerta, offerta dalla direzione del festival, dalla direzione della sala, dalla direzione di una nota pasticceria fanese, Matteo Cavazzoni, e brioche in abbondanza e caffè bollente. Oltre la forma, la sostanza. Dopo l'esordio di martedì alle 21 e 15, con il lungometraggio Le Voci Sole, con protagonista Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, prenderà dunque il via la rassegna pomeridiana di cortometraggi. Tanti temi trattati, con una finestra animata e particolarmente esplicita, sulla sessualità femminile. Per il resto tanto tanto impegno, con i fari sempre puntati sulla più stringente attualità. Il tutto, come sempre, a ingresso gratuito. I temi sono quelli, ovviamente, della paura, della guerra, della malattia, insomma, del disagio personale. Sono temi, ovviamente, che non potevano sfuggire a registi oculati, come sono, giovani, giovanissimi registi, comunque, che si prendono carico anche di una realtà, ovviamente, che non funziona più come dovrebbe, insomma, no? Ecco, ma poi ci sono temi, la povertà, ripeto, la povertà, il desiderio di riuscire, no? A sopravvivere, ad andare oltre, no? Questi temi negativi, insomma, ecco. Quindi, ecco, ma ci sono anche temi, no? Gradevoli, piacevoli, tipo l'animazione è tutta, no? Una basata su temi scanzonati, su temi, ovviamente, di grande qualità, anche piacevoli. Metà delle pellicole pervenute sono italiane. Il resto arriva da 96 paesi stranieri, tra cui la Russia, per la quale spicca un corto diretto da una regista siberiana che a causa della guerra non ha potuto inviare la versione finale in alta qualità. Il patron Pucci, però, l'ha così amato che ce lo mostrerà ugualmente, anche se in bassa definizione. Tante poi le produzioni marchigiane, tutte provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino. Simone Massi su tutti, ovviamente, no? Come sappiamo, Simone Massi ha vinto tante volte il Festival di Fana, che quest'anno ci ha fatto un bellissimo regalo, dandoci gli ultimi due prodotti, due cortometraggi animati, insomma, no? Simone Massi di Pergola. Poi, il miglior film di autore marchigiano, eh? Matteo Damiani è di Urbino, praticamente. Poi c'è un fanese, no? Facchini, il regista Facchini, fanese che gira all'estero, un grande documentarista, come grande documentarista è Filippo Biagianti di Urbino, lo stesso, che ha generato un ottimo documentario in Terra Sarda.